che qui presente nella persona della signora Silvia Sesana Ciao Silvia, scusa se ti do sempre del tour, ma un grosso applauso perché rappresenta tutto il comune noi ringraziamo perché ci dà questa bellissima possibilità di utilizzare sia questa piazza, sia la via Baslini io non so, via Carlo e Baslini, scusate, io non sono numerata qui perché c'è anche Antonio, qui bisogna stare a te lascio un attimo la parola a lei, poi ringraziamo tutti gli sponsor e procediamo con le premiazioni, dai siamo ormai, ci conosciamo, voi siete sempre stessa io sono sempre la stessa per cui ci conosciamo anche dalle precedenti edizioni niente, ringraziamento ma sicuramente al Motoclub che tutti gli anni insieme al Presidente Marco, presente, organizza questa bella manifestazione stamattina ha visto la partenza, l'avate in tanti, il sole vi ha aiutato anche se Marco ha guffato, ve lo dico, di sottovoce cioè che ha guffato perché diceva, no al 17 piove